Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale. In A1 si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 6 di lunedì 19 aprile rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla FIPI lì dove si segnalano possibili rallentamenti a causa di lavori tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze è in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Sandonato che attualmente è chiuso in uscita in direzione Siena. Viabilità di Firenze rallentamenti a causa di lavori in via Bolognese all'altezza di Villa Finale a causa di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!